dai dai riprova che sale ma lì va adesso il gruppo rosso è buono o è rosso? e lui gira a destra e gli sta salendo quantomeno mantiene la quota è buono No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no E buttati lì dove è lui, guarda Lui gli sta salendo Sopra lo spuntone di roccia, vedi? 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 Sopra lo spuntone di roccia, vedi?